La Fisica che cura Parliamo di quell'esperienza con spesso connotati negativi che serve all'individuo per crescere ed è totalizzante. Parliamo di dolore. Il dolore è un'esperienza che noi tutti condividiamo, tutti facciamo esperienza di dolore almeno una volta nella vita ed è quel fenomeno che ci permette di apprendere ad esempio che il fuoco scotta e quindi non bisogna toccarlo oppure che un coltello taglia e bisogna stare attenti. Il dolore è quell'esperienza, quel maestro che ci insegna a vivere nel mondo attraverso cui noi evolviamo e trasmettiamo alla nostra prole quelle informazioni utili ad essi per vivere. Già nell'antica Grecia i filosofi si interrogavano su quale fosse la vera natura del dolore e perché fosse così importante per il genere umano. Ad esempio per Aristotele il dolore è quell'esperienza che ci allontana dalla felicità, mentre per gli stoici il dolore è un nostro comportamento nei confronti di eventi che non dipendono da noi, da dove poi nasce il concetto di stoicismo, ossia di sopportazione del dolore. Trova infine una sua connotazione più naturale come esperienza che insegna all'essere umano in Kant e in Schopenhauer ad esempio. Ma che cos'è il dolore? L'International Association for the Study of Pain definisce il dolore come un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole riferita ad un danno tessutale. Il dolore è un'esperienza personale, soggettiva, in cui più eventi convergono insieme nella sensazione dolorosa. Abbiamo ad esempio la componente sensoriale chiamata nocicezione, cioè la trasmissione dell'informazione dolorosa dal punto dove questa nasce al sistema nervoso centrale. Ma non meno importante è la componente affettiva, esperienziale, che modula la nostra risposta allo stimolo nocicettivo. Insomma il dolore è un'esperienza che coinvolge a tutto tondo la persona, sia dal punto di vista proprio fisico, sensoriale, che dal punto di vista emozionale, generando quindi una risposta all'evento nocicettivo molto soggettiva. È un'esperienza quindi spiacevole, in cui noi non vogliamo stare per troppo tempo, ed è quindi molto importante cercare delle strategie che possono aiutarci a ridurre il dolore. Il dolore viene trasmesso dalla periferia, dal punto dove origina la percezione, alle vie centrali, al sistema nervoso, dove non esiste proprio un'area adibita alla percezione del dolore, ma diversi circuiti interagiscono tra di loro per processare l'informazione dolorosa e farci quindi vivere il dolore. Questa complessità nella processazione dello stimolo doloroso rende anche complessa quella che è la terapia del dolore. Esistono diversi tipi di dolore, ad esempio il dolore neuropatico, cioè legato ad un danno del tessuto nervoso, come può avvenire ad esempio in caso di un'infezione virale, pensate al cosiddetto fuoco di Sant'Antonio per esempio, oppure un dolore secondare ad un'infiammazione, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. E troviamo il dolore in tantissimi disturbi, pensiamo ad esempio ad una frattura ossea o ad un mal di tenti. Il dolore è purtroppo un compagno presente anche in malattie molto più importanti, come una malattia tumorale oppure le malattie autoimmuni. Qualunque sia insomma l'origine del dolore o la sua natura, quello che non cambia è la sua funzione, ossia quello di informare, per citare Platone, un'informazione circa la disarmonia che si è venuta a creare. E' quindi molto importante riuscire a comprendere nel dettaglio l'informazione legata al dolore e trattarla nel modo più specifico possibile con i campi elettromagnetici ultradeboli. Una cosa molto interessante è che i campi elettromagnetici sembrano agire a livello del dolore su livelli differenti del sistema nervoso. Come è accaduto nel video precedente, anche questa volta entrerò un pochettino più nel dettaglio, ma non vi preoccupate, sarà tutto chiaro verso la fine dell'intervento. Specifiche frequenze nel range dei campi elettromagnetici a bassissima frequenza e intensità hanno dimostrato di avere un effetto di aumentare la produzione di endorfine e il turnover della serotonina, ad esempio. Questi due aspetti hanno un'importante funzione in quella che è la percezione del dolore. Un altro effetto riportato in letteratura è quello sul turnover della dopamina, i cui recettori sappiamo essere implicati nella nostra risposta al dolore. Un altro effetto sempre riportato in letteratura è quello di riduzione dell'attività dei recettori NMDA collegati ad esempio al fenomeno dell'iperalgesia, mi viene in mente ad esempio la fibromialgia. Insomma, i campi elettromagnetici sembrano avere un effetto sul sistema nervoso centrale per la modulazione del dolore su tanti aspetti differenti. Non dimentichiamoci poi gli effetti dei campi elettromagnetici a bassissima frequenza e intensità sulla modulazione dell'infiammazione, come detto nell'episodio precedente. Di conseguenza noi possiamo operare per ridurre il dolore con i campi elettromagnetici in due modi. Uno attraverso l'effetto sul sistema nervoso centrale e due attraverso la modulazione dell'infiammazione. Ed è appunto combinando insieme questi due effetti dei campi elettromagnetici ultra deboli che la terapia elettromagnetica viene ad esempio utilizzata nell'osteartrosi, nella casa di riposo in cui io lavoro. L'artrosi è una malattia legata ad un'infiammazione cronica che porta alla degenerazione delle articolazioni causando quindi dolore. Non esiste una terapia specifica contro l'osteartrosi. Di conseguenza in medicina si cerca di andare a trattare quello che è il sintomo principe di questa malattia, cioè il dolore. Per questo motivo qualche anno fa con il mio team di fisioterapisti ci siamo interrogati sulla possibilità di trattare il disturbo osteartrosico utilizzando i campi elettromagnetici ultra deboli. Quello che abbiamo osservato è che non solo nei soggetti trattati il dolore si riduceva in maniera statisticamente significativa ma anche la mobilità articolare veniva in qualche modo migliorata. Aspetto di non secondare importanza secondo il mio punto di vista è stato anche il miglioramento della qualità di vita da un punto di vista mentale, cioè questi soggetti si sentivano meglio. Insomma il dolore era stato trattato non solo come dolore sentito a livello del sistema nervoso ma anche da un punto di vista infiammatorio, che è lo stesso approccio utilizzato ad esempio nel post-operatorio. Pensate ad esempio ad un intervento per frattura di femore. A livello del sito di intervento io avrò lo sviluppo di un'infiammazione e di conseguenza del dolore correlato ad essa. Con l'approccio elettromagnetico quindi io posso intervenire su due fattori. Uno, ridurre il dolore percepito dal paziente. Due, modulare quell'infiammazione affinché l'esito dell'intervento sia più rapido e migliore. Ritornando nel nostro viaggio all'ospedale Galino di Genova dove ci eravamo già recati la volta scorsa possiamo identificare un altro effetto del campo elettromagnetico a bassa frequenza e intensità utilizzato in terapia appunto nel controllo del dolore nelle malattie autoimmuni come da loro dimostrato. Interessante notare come l'effetto antalgico legato alla terapia con i campi elettromagnetici di bassissima frequenza e intensità può essere utilizzato in protocolli di medicina integrata anche nel trattamento delle malattie oncologiche dove il campo elettromagnetico svolge non solo la funzione antalgica ma anche un altro tipo di funzione. Ma di questo ne parleremo nel prossimo episodio. Prima di salutarvi vorrei ringraziarvi per le tantissime mail che avete inviato a lafisicachecura.ionorisonanza.it Alcune di queste sono veramente interessanti e penso che in futuro faremo un intervento solo dedicato alla risposta di queste vostre interrogativi. Vi ricordo che anche questa volta trovate in descrizione i link ai riferimenti bibliografici che mi hanno permesso di produrre questa puntata. E vorrei concludere ponendovi un interrogativo. Il campo elettromagnetico ci può aiutare anche per il dolore di tipo emozionale? E quest'oggi vorrei salutarvi citando Anasagora. A causa dell'opacità dei nostri sensi non siamo in grado di giudicare il vero. Alla prossima!